Prenda, 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 prenda! Aiuto! Anche nei momenti più inaspettati, Tim è con te. Scegli la tua team special, minuti, messaggi e internet, a partire da 10 euro al mese. Pronto? Ma dove sei? Non lo so, in Italia, spero, credo. Tranquilla, vai su internet e dacci le coordinate. Ciao ragazze! Martina, dovevi tirare le redini? Eh, non so, ma erano loro che tiravano me. Corri nei negozi Tim. Ciao ragazze!